Allora amici, penultima top 11 prima di questa pausa mondiale che piace a tutti e fa piacere a tutti. Ho sentito pareri veramente ottimistici sul futuro del calcio riguardo a questo mondiale a novembre e soprattutto tutti sono molto felici gli allenatori di fermarsi per questa pausa di un mese e mezzo. Non so se avete sentito Guardiola, Klopp, Sarri, sono tutti infuriati. Solo che si sa da otto anni che c'è il mondiale. Non è che se abbiamo saputo oggi, forse sarebbe stato il caso di muoversi un po' prima. Io capisco che nel calcio le cose vanno una di seguito all'altra e che uno non pensa così lontano, però forse se dovevi protestare, dovevi protestare prima secondo me. Alcuni, devo dire, tipo Klopp, hanno manifestato il loro pensiero fin dall'inizio, Maurizio lo pensavo fin dall'inizio, altri, nella prima parte, quando c'era la grande spinta commerciale e pubblicitaria di questo mondiale, altri avevano preferito Taceri. Io penso che una volta che si è deciso si cerca di fare le cose al meglio per cercare di giocare un bel mondiale, un mondiale che possa portare ancora un po' di espansione al calcio, possa farlo crescere. Che sia poi effettivamente così, anche io non sono proprio del tutto convinto, però, ripeto, si poteva agire prima, cioè quando il mondiale è stato assegnato, e si poteva agire soprattutto dopo, quando alcune associazioni avevano cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica su alcune cose che stavano accadendo, nel silenzio generale. Quindi, quelli che hanno parlato da subito bravi, quelli che parlano dopo un po' meno. Secondo me non li inseriremo nella mia top 11. Parliamo però dell'ultima giornata di campionato. C'è stato un portiere, secondo me, che è stato superiore agli altri. Di questo portiere io ho sentito parlare, fin da quando è ragazzo, non bene, ma benissimo. Io ho sentito parlare così bene di un portiere solamente quando Donna Roma aveva 14 anni, però. Donna Roma ha 14 anni e già si diceva che sarebbe stato portiere della Nazionale, prima che cambiasse procuratore, prima che arrivasse al Milan. E quindi, cioè, Carnesecchia è un po' un predestinato da questo punto di vista. L'Atalanta l'ha mandato in giro a giocare da ragazzo, ha avuto dei problemi fisici, adesso però sta facendo molto bene. Merita, secondo me, il posto in questa top 11. Io credo che possa anche tornare più volte a essere rappresentato nella nostra classifica dei migliori giocatori della settimana. In difesa. Idolo assoluto al quale rivolgo un appello. Allora, caro Baschirotto, è dall'inizio della stagione che sto parlando di te, perché rimasi assolutamente impressionato dalla prima partita che vedi di Baschirotto in Serie A, spostato in una posizione non sua, in un momento difficile, fece una partita da gladiatore, da... veramente da eroe quasi, e devo dire che questa sua caratteristica è rimasta nel corso della stagione. Io pensavo, però aspetta un attimo, Fabio, vabbè, adesso ne parli, poi magari però lui calerà, invece non cala niente Baschirotto. Adesso ha anche segnato, c'è un fisico da paura, una muscolatura da lottatore di MMA, sport che a me tra l'altro piace abbastanza, quindi è un punto in più. L'avevo consigliato a Fantacalcio a mio figlio Diego, che alla fine se l'è preso, e quindi è il nostro idolo indiscusso di famiglia. Quindi Baschirotto, vogliamo la maglia firmata. Adesso questo messaggio sicuramente ti arriverà, vogliamo la maglia firmata tua. Non l'abbiamo mai chiesta a nessuno, ti dico solo questa. Non ho fatto questo appello neanche, non so, Cristiano Ronaldo, no. Io voglio la maglia firmata di Baschirotto, perché per noi sei un idolo e stai giocando alla grande. Va bene, dopo questa dichiarazione d'amore parliamo anche degli altri tre difensori, che sono Danilo. Qui non voglio entrare nella polemica del rigore. La regola è abbastanza chiara, quindi secondo me l'avete letta, perché alla fine i commenti post partita sono tutti più o meno simili. Però Danilo, ragazzi, non può non essere in questa top 11 per tante settimane di fila, perché io sono convinto che il filo della ripresa della Juventus, oltre al calendario, passa dalla testa di Allegri a quella di Danilo e insieme ricostruiscono un po' l'ambiente, perché Danilo capisce, da uomo d'esperienza, che si deve prendere, non che gli altri non si siano presi le loro responsabilità, ma lui capisce che deve un po' accentuare forse la sua presenza da leader nella squadra, lo dimostra con gli atteggiamenti in campo, lo dimostra ormai da un mese e mezzo almeno, secondo me. E questo apre anche, ragazzi, un po' una considerazione. Cioè, noi abbiamo dato Allegri e la Juventus per scomparsi, per cacciare via, Allegri lo devono cacciare, Allegri out, ma io è lì. Allora, però, uno, se è obiettivo, al di là di come gioca, io quello, quello è il gusto personale, può piacere o può non piacere, però, intanto ha rimesso a posto la difesa, la prima difesa del campionato, che è sempre stata la base della Juventus di Allegri, vince così di corto muso come piace dire adesso, va bene, vince di corto muso, va lì, è rientrata in zona Champions, adesso, a gennaio, riavrà dei giocatori importanti. Allora, secondo me, poi, adesso, vorrei vedere dei commenti, non di parte, obiettivi, noi facciamo i commentatori di quello che vediamo, non è che facciamo i filosofi del nostro modo di vedere il calcio, che poi, una cazzata, perché il calcio, è cento cose diverse, il calcio, non è che il calcio è uno solo, no, questo è un tipo di calcio, questo tipo di calcio è un tipo di calcio che in alcuni casi può essere produttivo o meno produttivo, può piacere o non piacere, però la Juve è là, va bene? adesso, quindi, quali sono i commenti? Gli stessi di prima? Sulla Juventus? Cioè, lo stesso, è una squadra che non gioca, tutti questi fenomeni che dovevano aiutare la Juve, che Allegri non faceva giocare, che sono andati via e sono scomparsi. Adesso ci sono altri giocatori interessanti che sono cresciuti con Allegri. Allora, io dico solamente che il gusto personale va bene, però l'analisi deve essere scientifica per quanto possibile, perché noi facciamo questo mestiere e quindi deve essere scientifica e non di gusto personale e voglio vedere adesso se i pareri, non dico devono cambiare, intendiamoci, se a te non piace come giocare a Juve, non ti piace come giocare a Juve, però i risultati vanno commentati in maniera diversa. Questo secondo me, in generale, questo discorso vale per Allegri Out, tanto per intenderci. rimane il gusto personale, bisogna considerare i risultati, perché ricordatevi che lo sport professionistico è uno sport che deve portare dei risultati, perché si chiama professionistico per questo, perché i risultati poi comportano uno sviluppo economico e ci sono tanti discorsi alle spalle. Di Marco, terzo, beh, Di Marco è sicuramente il miglior giocatore di questo torno di campionato, segna su punizione, segna su azione, tra l'altro spostandosi dalla posizione non sua, quando l'Inter può giocare in proiezione offensiva, Di Marco è sicuramente un'arma in più, ha un piede straordinario, quando l'Inter incontra invece squadre che si sono molto fisiche, soprattutto in attacco, fa un po' più fatica, ma questo dipende dalle sue caratteristiche fisiche e tecniche. Non c'è dubbio che Di Marco sta giocando uno scorso di stagione, questa prima metà di stagione è benissimo, ha giocato benissimo anche in nazionale, io me lo ricordo in Under-19 ma l'ha fatto impazzire perché erano anni che non vedevo un terzino alla Roberto Carlos, tanto per intenderci. secondo me può giocare anche a 4, oltre che a 5, è un giocatore che ha ancora margini di crescita, l'unica cosa è che deve cominciare a stare un po' più attento e magari ogni tanto gli scappa l'uomo dietro, però sono cose che si possono rivedere in questo campionato, in questo turno strepitoso. Centrocampisti, ben tornato tra i migliori centrocampisti del campionato a Jack Bonaventura, giocatore che ogni tanto è stato sottovalutato, forse perché erano tantissime le aspettative quando è arrivato al Milan e poi ha avuto un periodo di infortuni, però Bonaventura è sempre stato secondo me alla fine costante, è un giocatore che soprattutto quando può giocare in inserimento e farsi vedere sotto porta, è sempre uno che può cambiare la partita e il risultato e quindi merita sicuramente un posto nella top 11. Poi ho inserito Radonic, io lo so che Radonic gioca più avanti, trequartista, quasi seconda punto, però il Torino, l'ultimo Torino è un Torino senza punte praticamente, ha scelto così Juric per l'ultima vittoria e con tutti i trequartisti stile Atalanta se volete, si parla sempre di Juric e della sua radice gasperignana, stile Atalanta tipo dell'anno scorso di due anni fa è riuscito a vincere benissimo il Torino e qui devo dire io voglio anche fare un complimento a Juric, ogni tanto me la prendo con lui perché a me certi atteggiamenti lo sapete non mi piacciono però vedo che si sta proprio cercando di fare uno sforzo su se stesso per cercare un po' di ammorbidire alcune posizioni e io gli uomini perché sono così anch'io gli uomini che capiscono i loro errori io ne ho commessi tanti nella mia vita e cercano di migliorarsi io li apprezzo molto mi sembra che Juric stia proprio facendo vedete che nelle interviste continuo a ripetere con un mantra anche io devo mantenermi più calmo evidentemente si è accorto che un certo tipo di atteggiamento non è tanto produttivo soprattutto per se stesso e quindi gli faccio grandi complimenti poi il terzo centrocampista che inserisco è Piotr Zieninski grande crescita con Spalletti inserimenti centrali un giocatore che sa essere decisivo e poi il quarto è Rabiot allora Rabiot secondo me ha avuto un'evoluzione importantissima in quest'ultimo anno mi sembra un giocatore cambiato e il merito va sicuramente ad Allegri e a lui forse ha capito dopo un nodo del Manchester United che una strada che aveva preso insomma di autoesaltazione non pagava tanto è arrivata la convocazione nazionale e non ha fatto come mondiali prima o gioco oppure sto fermo cioè mi sembra maturato come uomo e si vede anche in campo in campo sta diventando decisivo cioè non è più non è più un giocatore che insomma gioca per se stesso finalizzato a farsi vedere quanto è bello è un giocatore che invece comincia a finalizzare tutto il suo lavoro per la squadra e quindi lo apprezzo molto e mi piace inserirlo in top 11 e al mondiale con la Francia dovrà fare cose importanti perché la Francia c'è un centrocampo che non è tanto fisico per le assenze e quindi io credo che lui possa dare il cambio di passo una cosa che non necessariamente il centrocampo della Francia avrà credo quindi che finirà anche per giocare titolare in attacco in attacco ce l'ha avuto ospite al club in intervista dopo la partita metto sicuramente Edin Dzeko Edin Dzeko sta zitto e lavora quante volte l'avete sentito protestare per la panchina secondo me Edin pensava quest'anno alla sua età di farsi un'annata all'Inter da riserva entrare ogni tanto e fare qualche gol praticamente è titolare inamovibile aiuta tantissimo la squadra segna i gol difficili come al solito ogni tanto sbaglia quelli facili ma questa è sempre stata una caratteristica di Dzeko fin da quando giocava al Fosburg aiuta tantissimo la squadra secondo me si sta meritando la riconferma a patto che lui sappia che anche l'anno prossimo fisicamente perché se quest'anno doveva fare diciamo saluto Giuseppe l'alta fini dei vecchi tempi ma quello che entra e fa gol magari negli ultimi 20 minuti e invece sta giocando titolare questo è uno spazio che secondo me si può ritagliare nella prossima stagione quindi se io fossi l'Inter rinnoverei perché nella prossima stagione c'è un giocatore serissimo che ti entra per 20 minuti e magari ti risolve le partite poi metto Lozano oh ragazzi di Lozano si parla poco ma il Ciuchi a proposito lo chiamano Ciuchi perché gli spagnoli non hanno le pronunce americane ma lui in realtà sarebbe Chachi perché il soprannome viene da Chachi la bambola assassina che era un film dell'orrore degli anni 70 con questa bambola che in effetti somiglia un po' a Lozano se la guardate vagamente e allora da bambino l'avano chiamato così anche perché somigliava e faceva sempre gol poi ovviamente siccome lì non c'è la pronuncia americana Chachi lo chiamano il Ciuchi però comunque il Ciuchi sta facendo una grandissima stagione come tutto il Napoli ma devo dire la continuità che sta avendo quest'anno non l'ha avuta secondo me nelle passate stagioni ed è anche uno di quelli che ha continuato a giocare malgrado l'avvicinarsi al mondiale sempre con la stessa intensità senza mai togliere la gamba cosa che in Italia devo dire ho visto poco in altri campionati ho visto molto di più come ho già avuto occasione di dire il terzo attaccante è Ken perché mi sembra che finalmente stia trovando una sua dimensione cosa che non era per niente scontata credo che abbia lavorato su di lui molto psicologicamente lo staff della Juventus e mi sembra che stia trovando continuità e sicurezza in se stesso e gli attaccanti per fare bene devono essere sicuri la menzione per un altro attaccante che è Jovic Jovic sembra non segna mai Jovic ha fatto sette gol mi sembra già questa stagione è vero che è stato ricostruito nelle coppe europee in conference però è anche vero che adesso sta trovando un po' di continuità realizzativa cosa che non aveva da due anni e anche qui secondo me perché poi se sei un attaccante e non segni per tanto tempo giochi poco magari perdi fiducia in te stesso nelle tue capacità e quindi magari non calci con la stessa decisione e questo per un attaccante è tutto quindi menzione e poi mi sono lasciato un po' di spazio per parlare di Murigno che io metto stavolta anche se sapete io sono un murignano convinto tre flop allora io ho scritto un libro nel quale ho cercato un po' di riassumere quello che secondo me è il pensiero di Murigno Murigno lavora col Bushido Bushido è il libro sacro dei samurai Bushido e Sun Tzu sono secondo me due riferimenti importanti da tenere in considerazione quando si parla di Murigno come funziona Murigno? Murigno funziona con l'identificazione del nemico che è tutto ciò che è all'esterno dello spogliatoio questo viene non so se lo abbia letto Sun Tzu ma sicuramente questa è una cosa che dice Sun Tzu Sun Tzu dice fai sentire assediati i tuoi generali io otterrai il meglio da loro lui ha la tendenza a far sentire la squadra assediata lo spogliatoio più che la squadra assediata cioè il suo concetto è io sono il vostro umbello e vi proteggo a patto che sotto di me ci sia tutto lo spogliatoio compatto cioè noi dobbiamo tenere fuori il nemico della porta se noi permettiamo che la porta si schiuda ed entri qualcuno in quel momento noi abbiamo perso la nostra compattezza e rischiamo quindi di perdere le nostre caratteristiche principali chi non fa parte del gruppo e non accetta le regole del buscido impegno onore lotta con gli altri fianco a fianco coraggio abnegazione chi non accetta queste regole non può stare sotto un mio ombrello protettivo chi non accetta queste regole deve stare fuori dallo spogliatoio guardate che Mourinho negli anni passati in alcuni casi ha fatto proprio spogliare dei giocatori da un'altra parte questo perché perché se tu hai un concetto così assolutistico dell'unità di gruppo chiunque vedi possa minarla ovviamente lo devi tenere dalla parte perché diventa uno dei nemici che rafforza il gruppo all'interno ora però tutte queste considerazioni e qui prendo un altro maestro che è Fabio Capello vanno fatte ricordando dove sei in una città come Roma se tu spari addosso a un giocatore in questa maniera rischi che non possa riuscire di casa è giusto? secondo me no e poi soprattutto questo discorso va bene se non è esasperato cioè se io porto dei risultati e poi esaspero questo discorso perché quella cosa qua questa cosa qua cioè il buscito l'unità sun su mi danno dei risultati va bene ma se la squadra ti ramporta una volta al mese i risultati non arrivano e allora la cosa può essere anche che ti si ritorca contro perché poi chi ti sente non è stupido e se una cosa è funzionale ma sentita o una cosa è costruita un po' artatamente artificiosamente si avverte si avverte che tu cerchi magari in un momento non positivo della tua squadra dopo un derby perso quella squadra che non gioca bene che non convince e comincia a avere qualche critica anche dove si è amatissimo e cioè a Roma sembra quasi io la chiamo la distrazione di massa cioè sposti sempre l'obiettivo da un'altra parte gli arbitri i fortuni il giocatore non si applica però poi la qualità del gioco obiettivamente queste ultime settimane è molto bassa ecco quindi da questo punto di vista secondo me stavolta la comunicazione non ha funzionato aspetto però di vedere anche i risultati perché anche l'anno scorso dicevamo che non poteva funzionare la comunicazione fatta in Coppa per tutte le riserve che avevano fatto male contro il Bodo e poi invece le cose sono cambiate quindi Mu è senz'altro un grandissimo comunicatore un grande allenatore però occhio perché poi secondo me se si spinge troppo sull'acceleratore su certe cose si rischia di perdere un po' di credibilità e la credibilità è la vera forza è stata sempre la vera forza di un grande allenatore di Giuseppe Mourinho